Potete sempre analizzare la grandezza del competitor con cui andate a competere perché se il competitor è molto grande e ha un brand molto molto affermato è difficile entrare in quel mercato o comunque andarsi a posizionare con un nuovo prodotto infatti molte persone iniziano magari a commentare le vostre ads dicendo questo è lo stesso prodotto di là ma l'ho visto anche lì e così via